Sì, ragazzi io sto registrando eh, io sto registrando, fate come vi pare. Dai su, che dico, non vedo la scritta, c'è la scritta eh. C'è la scritta. C'è la scritta. C'è la scritta. No, no, io dicevo, io già facevo. C'è la scritta. C'è la scritta. C'è la scritta. C'è la scritta. Non avresti ci passato prima. Non ci siamo passati prima. C'è la scritta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.